Guardate qua, guardate qua, siete padri di famiglia come noi, non vogliamo litigare da voi perché siete uguali a noi, ma voi avete i nostri pezzi, io che cazzo gli do a miei figli e miei dipendenti, che cazzo gli do ragazzi? Siamo a costituzione italiana e questi signori qua la disattendono da oltre anni, hanno giurato, non siamo qua per la guerra, non siamo neanche a puntare, a forzare, non siamo neanche a fare, vogliamo solo che il potere si ascolto, guardatevi si caschi per noi, per la dignità del popolo. Andiamo assieme a tutti qui i suoi, c'è la vostra your show, ma noi abbiamo i suoi, veramente lasomore, l'argomento di chi ho fatto, è il nostro diritto, la nostra democrazia, un po' di democrazia, un po' di democrazia. Non vogliamo lavorare, non vogliamo lavorare, non vogliamo lavorare. il mio conto corrente del mio riscaldamento è 91 mila euro ma che cazzo dobbiamo fare lavorare voglio come lavorate voi, vogliamo lavorare non si può più vivere così, non è stato in pace siamo cittadini, vannoci passare siamo persone, cittadini, vannoci passare vannoci passare siamo disperati, siamo un aspetto dipendente o licenziale guardate che siamo la bella disperata non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo sarete tibili a casa con un altro buoni, buoni non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non siamo loro non ci passare non ci passare Fermi, 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 hanno passato gli scusi, fermi.